Dopo aver molto sopportato, la scorsa settimana Milena Cecchetto ha deciso che la misura era colma e ha deciso di denunciare le molestie che a suo dire le erano arrivate dal collega consigliere regionale Gio Formaggio di Fratelli d'Italia. Comprensibile il polverone di polemiche che ne è seguito e che ha portato il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti a portare all'approvazione dell'Aula il provvedimento più severo fra quelli previsti dal regolamento, la sospensione per 5 giorni dai lavori dell'Aula nei confronti di Formaggio. In un'Aula rigorosamente a porte chiuse si sono presentati oggi in 46. L'esito del voto è questo, 41 favorevoli, 2 gli astenuti, 2 le schede bianche e un voto nullo. Lo stesso Ciambetti ha commentato così. In assemblea legislativa Veneta si viene per lavorare a favore dei Veneti, si viene per operare e approvare cose che sono utili a 5 milioni di persone. Con atteggiamenti poco consoni a questo luogo non è il caso di manifestarli in questa sede. Quindi chi viene qua deve comportarsi con educazione e serietà che il luogo assolutamente merita. I due protagonisti della vicenda, Cecchetto e Formaggio, non erano presenti oggi in Aula.